Salve a tutte e a tutti, sono Francesco Ferro e svolgo un dottorato in filosofia antica presso la Pontificia Università Lateranense. Sono davvero felice di partecipare a questa bella iniziativa promossa dal professore amico Federico Petrucci e dal gruppo di filosofia antica a Torino, che ringrazio davvero molto per l'invito. Nel mio contributo intendo prendere in esame alcuni passaggi del poema di Parmenide, che sono, a mio avviso, in grado di ben orientare la nostra comprensione della nozione e dello statuto di ciò che per Parmenide è l'essere. Secondo una tradizione lunga e consolidata, anche a livello di manualistica, Parmenide sarebbe da considerarsi il padre dell'ontologia, cioè colui che per primo ha riflettuto sull'essenza dell'essere, differenziandola da tutto ciò che eventualmente ne partecipa. Al contempo, egli avrebbe identificato tutto ciò che esiste con un'unica e semplice entità, l'essere appunto, in netta contrapposizione con la tradizione cosmologica lui precedente, che descriveva, invece, un universo costituito da molteplicità e cambiamento. Tuttavia, alla luce dei frammenti, entrambe queste conclusioni mi sembrano troppo nette e forse non colgono davvero il punto dell'opera del pensatore di Elea. Passando al poema, vediamo come, nei versi 3 e 4 del secondo frammento, si affermi che la verità consiste nel separare nettamente il fatto di essere dal non essere. Qualcosa che è esclude in tutto e per tutto di non essere. Ma dobbiamo chiederci però qual è il soggetto, che cos'è questo qualcosa che è e non può non essere. A questo proposito, leggendo il frammento numero 4, è possibile capire come ci si stia riferendo alle cose che sono, a tutto ciò che costituisce la realtà. In apertura, infatti, si dice che sebbene vi siano cose che possono risultare a prima vista distanti e assenti, a peonta, esse tuttavia per il nus sono saldamente prossime e presenti, pareonta. Come noto, nus si riferisce a un intendimento efficace, a una visione chiara e complessiva della situazione, che in questo caso, come leggiamo nel resto del frammento, consiste nel sapere che il legame di continuità che unisce tutte le cose che sono non può essere in alcun modo reciso, né nel senso di un loro sparpagliamento, né in quello di una cozzaglia in cui ogni elemento è semplicemente posto accanto a un altro. Se ancora andiamo al frammento numero 6, vediamo come delle cose che sono si parli usando il singolare, eon, e si sostenga che di ciò che è, è necessario dire e pensare che è. La ragione di questa tesi viene ritrovata nell'identità di ciò che è col fatto di essere, esti garenei, e nell'impossibilità che si dia qualcosa che non è, niente non è, medenu kestin. Oppure, se vogliamo scegliere una resa avverbiale di meden e continuiamo a considerare ciò che è come soggetto, diciamo che in nessun modo ciò che è, non è. Dobbiamo però fermarci un attimo e cercare di capire meglio in che modo Parmenide giunga a determinate conclusioni, la cui categoricità può certamente risultare arbitraria agli occhi di un lettore i cui presupposti concettuali derivano da una tradizione filosofica di più di 2000 anni successiva a Parmenide. Innanzitutto, infatti, viene spontaneo rilevare come il fatto di essere qualcosa sia intrinsecamente diverso e dunque non sia la singola cosa che è, e proprio per questo possa essere attribuito a una molteplicità di cose che sono, ognuna delle quali non è l'altra. La singola cosa che è, inoltre, può essere concepita in base a diverse categorie, diversi modi dell'essere, ognuno dei quali è sì in relazione con gli altri, ma presenta una propria riducibile specificità. Ancora poi, il fatto che qualcosa sia, nel senso che qualcosa abbia una propria determinatezza, nulla ancora ci dice di per sé in merito all'esistenza di questo qualcosa, ed è tutto ammissibile dal nostro punto di vista, infatti, dire e concepire qualcosa che è in un certo modo, possiede anche determinate caratteristiche e una storia, ma non ha mai avuto esistenza. Infatti, in base a un'abitudine consolidata, pensiamo che tali cose, se certo non esistono e non sono reali, possono però trovare la loro attuazione nel pensiero e nel linguaggio, il cui ambito è indipendente dal modo in cui le cose effettivamente sono ed esistono. In questo modo può venire alla luce tutta la problematicità di una tesi, come quella parmeridea, secondo cui è necessario che pensiero e linguaggio affermino che ciò che è, è. Infatti, anche ammesso che le cose stiano realmente così, non si vede perché non sia possibile dire o pensare anche il contrario. Dunque, a meno di non voler ritenere la proposta per me l'idea inconsistente, dobbiamo cercare di indagare quali presupposti concettuali lo portino a determinate conclusioni senza contemplare le opzioni che abbiamo delineato. Come hanno ben messo in luce studi oramai canonici tra tutti quelli di Charles Kahn, per un parlante greco di epoca arcaica e classica, ma anche oltre, il verbo essere, einei, significa prioritariamente essere qualcosa, cioè qualcosa di determinato. Certamente esso comprende anche il fatto di esistere, di essere reale, tuttavia la nozione di esistenza non viene identificata di per sé, cioè distinta, ben distinta dal fatto di essere qualcosa. Volendo chiarire con un esempio, in una nota espressione dell'Iliade leggiamo che l'indovino calcante è colui che conosce gli eventi presenti, ta e onta, quelli futuri, ta e somena, e quelli passati, pro e onta. Con il participio di einei, quindi, ci si riferisce nello stesso tempo agli eventi per come sono e al fatto che sono stati, sono o saranno reali. Altrettanto importante poi è evidenziare la netta separazione tra essere e non essere che emerge dalla sovrapposizione tra la semantica della verità e quella dell'essere. Dire ciò che è, le cose che sono, ton o, indifferentemente, ta onta, è spesso sinonimo di dire la verità, aletheia, e le espressioni esti o estitauta vengono usate per confermare che qualcosa è vero. Viceversa, il falso si caratterizza come ciò che non è, uc esti. Non meglio definita, inoltre, la differenza tra il senso identitario e quello attributivo della funzione predicativa propria del verbo essere. A questo proposito, basti pensare alle difficoltà che nei dialoghi platonici incontrano gli interlocutori di Socrate nel comprendere l'obiettivo della ricerca socratica che è sempre rivolta all'essenza di qualcosa e non alla molteplicità di istanze che quella cosa caratterizza. Con un esempio, il bello in sé è qualcosa di diverso da tutta la delle cose belle e, in questo senso, non è le singole cose belle che pure caratterizza, ma è appunto con la riflessione di Platone che tale problematica viene messa chiaramente in luce. Infine, un ultimo chiarimento non può che riguardare il legame strettissimo tra funzioni conoscitive e realtà che abbiamo visto all'opera leggendo il frammento numero 6 del poema. Al tempo di Parmeide, secondo una famosa formula che troviamo in un classico di ermeneutica del pensiero antico, la storia della logica antica di Guido Calogero, pensiero, linguaggio e realtà si trovano in quale scienza tra loro, nel senso che non sono ambiti ben distinti l'uno dall'altro. Come un esempio, nelle opere ai giorni, Esiodo può rintracciare nell'accusativo del nome di Zeus, dia, il senso della sua funzione cosmica, a partire dalla relazione fonetica con la preposizione di A, intesa in senso causale. Ancora Platone, che pure ha ben altra conspevolezza filosofica delle problematiche che abbiamo fin qui esposto, non può prescindere dal fatto che dire e opinare sono sempre in riferimento a qualcosa, un chi che non può che essere un qualcosa che è. Come noto nel sofista, giustificare l'effettività, la sensatezza e la dicibilità del non essere significherà trovargli un posto all'interno dell'essere, cioè della realtà. A questo punto abbiamo forse alcuni elementi necessari per affrontare in modo costruttivo i passaggi del poema di Parmeide che abbiamo presentato. Parmeide non si interroga sul senso specifico, sul che cos'è dell'essere o sui possibili diversi sensi che esprimiamo anche l'essere stesso è. Piuttosto, mantenendosi in una prospettiva cosmologica di ricerca di un principio unitario del tutto, il fatto di essere viene concepito come un tutt'uno con le cose che sono e dà vita a un'entità autosussistente, il cosmo, che è al contempo molteplice e unitaria. Questo insieme, pertanto, è qualcosa di determinato, di reale e di vero e si struttura in base a quella che possiamo comprendere come una logica dell'identità assoluta di qualcosa con se stessa. Pertanto, essere e in tutto e per tutto è solo l'identità dell'essere con se stesso. A conferma di come non vi sia una reale posizione del problema propriamente ontologico, leggendo il frammento numero 4 abbiamo visto come ognuna delle parti di questo insieme, non venga riconosciuta secondo una propria ineliminabile specificità rispetto al fatto di essere e le altre cose che sono, ma esista soltanto nella relazione reciproca con tutte le altre cose, tutte inseparabili tra loro in quanto parti di un insieme unitario. Non contraddice questa tesi neanche il fatto che più volte nel poema si parli di to e on, al singolare con l'articolo determinativo. Infatti, con questo sintagma nominale, come noto, prima di una riflessione astratta che si concentri sulla proprietà in sé per sé, si indica normalmente una singola cosa che possiede una certa caratteristica, oppure l'insieme delle cose che possiedono la stessa caratteristica, in modo del tutto sinonimico con il plurale. Con quanto abbiamo detto finora, dunque, sembra di poter capire meglio in che senso ciò che è, deve essere e non può in alcun modo non essere. Infatti, come l'essere, anche il non essere è concepito soltanto in termini assoluti, e pertanto, qualora l'essere non fosse, questo significherebbe per l'essere l'autorità di e con sé qualcosa di contraddittorio e impossibile, logicamente e realmente. Ancora, non soltanto l'essere non può in alcun modo non essere, ma non c'è alcuna cosa in generale che possa non essere. Infatti, se qualcosa non fosse, questo qualcosa dovrebbe comunque essere un qualcosa, un ti, che, come abbiamo visto in greco, non può che essere qualcosa che è qualcosa di reale, e in questo modo si riproporrebbe, dal punto di vista di Parmenide, la medesima contraddizione. Tuttavia, come si ribadisce lungo tutto il poema, se la verità consiste nel dire che ciò che è, è, la quotidianità umana è al contrario intrisa nell'errore, in quanto, secondo Parmenide, gli uomini immortali, nel loro pensare ed esprimersi continuamente congiungono essere e non essere. A questo punto, però, dobbiamo chiederci in che senso, secondo Parmenide, è necessario dire e pensare che ciò che è, è, visto che gli uomini comunque possono sbagliare. La risposta a questa domanda può, a mio avviso, essere trovata in quell'indistinzione tra pensiero, linguaggio e realtà che, abbiamo chiarito, essere una caratteristica del contesto concettuale in cui riflette Parmenide. tale indistinzione, ovviamente, non può essere intesa in modo assoluto, direi, macchiettistico. Parmenide può tranquillamente contemplare la possibilità di dire e pensare che ciò che è, non è. Tuttavia, proprio perché il contenuto del pensiero e del linguaggio non è qualcosa di diverso dal contenuto della realtà, tale possibilità non viene riconosciuta come realmente effettiva, dal momento che non realizza davvero né un dire né un pensare, così come la congiunzione di essere e non essere non realizza qualcosa di determinato e reale. Come più volte si ripete nel poema, non è possibile dire o pensare che qualcosa non è, congiungere essere e non essere nel pensiero e nel linguaggio. Per Parmenide, il passaggio da un piano all'altro è qualcosa di immediato e di non veramente problematico. Pensiere e linguaggio, in realtà, vivono in coalescenza tra loro e non esistono separatamente al loro contenuto che si mantiene lo stesso, lo stesso tanto in un ambito quanto nell'altro e si manifesta sempre allo stesso modo. In conclusione, possiamo soffermarci brevemente sul famoso frammento numero 8 per vedere come anche gli attributi che caratterizzano Toe e Orn, tutto ciò che è, siano pienamente compatibili con una prospettiva cosmologica di profonda comprenetazione tra unità e molteplicità, come quella che abbiamo fin qui descritto. Ciò che è, infatti, è un'unica cosa, identica a se stessa e perfettamente omogenea, ma, allo stesso tempo, è un tutto completo, un intero e qualcosa di continuo in cui la singola cosa che è si stringe con la singola cosa che è, riprendendo quel principio di perfetta continuità tra le parti che abbiamo già visto nel frammento numero 4. Tutte queste caratteristiche, dunque, devono appartenere a ciò che è in quanto ciascuna di esse, venendo meno, determinerebbe mancanze e fratture nette, portando l'essere a non essere. Specularmente, sono estranee a ciò che è tutte quelle caratteristiche che ne minerebbero la struttura fondamentale. Ciò che è, infatti, è ingenerato e indistruttibile, indivisibile e immobile. Pertanto, in linea con quanto detto finora, ciascuno degli attributi che vengono conferiti o negati all'essere, pur avendo certamente in luce una propria specificità, non viene indagato in quanto tale, ma riportato al fatto di confermare o pregiudicare la determinatezza e dunque la realtà di ciò che è. Ancora una volta, dunque, possiamo vedere come l'oggetto del discorso sia un molteplice unitario. Tutti gli attributi, infatti, vengono riferiti a ciò che è e portano alla luce tanto l'elemento dell'unità e dell'omogeneità quanto quello della molteplicità. Non si descrive mai un qualcosa come l'essenza dell'essere che andrebbe poi in qualche modo messa in rapporto con i suoi attributi e con tutte le cose che sono, ma l'unità in un unico corpo delle cose che sono, alla luce del fatto di essere. In questo modo, la nozione che forse riassume meglio la struttura del cosmo parmenideo è quella di intero, hulos nello ionico di Parmenide, che troviamo che rientra tra gli attributi di ciò che è. L'idea alla base, infatti, potrebbe essere quella di una singola etità composta, un organismo vivente, in cui le parti non esistono in se stesse, ma soltanto nella relazione tra loro in quanto espressione unitaria del principio comune. In altre parole, un insieme in cui il tutto è superiore alla somma delle parti. Il principio fondamentale di questo tutto, di questo intero, non può che essere il fatto di essere, il cui statuto è necessariamente ambivalente. Da un lato, infatti, esso è immanente alle parti che lo costituiscono, che altrimenti non sarebbero. Dall'altro, tuttavia, questo principio deve pur mantenere una qualche trascendenza. Se così non possa, infatti, si identificerebbe in tutto e per tutto con la molteplicità, risultando qualcosa di intrinsecamente indeterminato e contraddittorio. In questo modo, le parti, pur avendo funzioni diverse all'interno del tutto, non possiedono ciascuno la propria essenza, non hanno, cioè, realtà di per sé, non sono niente di paragonabile alle idee platoniche. Al contrario, le parti sono tutte espressioni del principio comune e vivono nella relazione reciproca come parti di un'unica entità. Con quanto ho esposto, non pretendo certo di avanzare un'interpretazione definitiva di Parmenide. Bisogna, infatti, capire ancora se Parmenide avesse in mente qualcosa di più specifico in merito alla costituzione del cosmo, quali fossero davvero le sue parti e se al suo interno fosse possibile conciliare il presupposto di assoluta determinatezza in realtà con una qualche forma di divenire. Alcuni interpreti, ad esempio, ritengono che quello di Parmenide sia soltanto il progetto teorico di una cosmologia a venire. La seconda parte del poema, quella più propriamente cosmologica, come noto è fortemente lacunosa ed è da sempre al centro di accesissimi dibattiti. Essa potrebbe, infatti, semplicemente contenere l'esposizione di un cosmo viziato dall'errore fondamentale compiuto dagli uomini o piuttosto costituire la riformulazione corretta di quello stesso cosmo alla luce delle conclusioni raggiunte in merito alla conformazione dell'essere. Tuttavia, anche gli interpreti che scelgono questa seconda opzione non sono per nulla d'accordo sul modo di questa correttezza del cosmo. Quello che però mi sento di poter sostenere diversamente rispetto a tutta la parte della critica è l'ambivalenza di Parmenide nella storia del pensiero greco. Dal lato, infatti, la sua proposta teorica concentrandosi sulla ricerca di un principio comune del tutto si pone in chiara continuità con la tradizione cosmologica. D'altro canto, però, rispetto ad altre cosmologie, l'argomentazione di Parmenide è esplicitata in modo chiaro ed è di natura strettamente logico-razionale e permette, pertanto, di fare un passo in avanti lungo quel cammino che porterà alla riflessione ontologica e filosofica vere e proprie. Grazie a tutti.